Uno degli obiettivi del nostro lavoro è quello di studiare le interazioni tra delfini e le varie attività di pesca per cui ogni volta che siamo in mare e avvistiamo un peschereccio quello che facciamo è fermarci e controllare che nei pressi dell'imbarcazione non ci siano dei delfini che seguono il peschereccio. In questo caso siamo in presenza di un peschereccio a strascico che pesca con dei ramponi. Stiamo seguendo queste due volanti, sono dei pescherecci che lavorano in coppia e trainano una grande rete a mezz'acqua. Siamo sulla nostra quarta coppia di volanti, stiamo controllando se ci sono delfini nei pressi dei due pescherecci. L'ennesimo rapido, ormai ho perso anche il conto di quante pescherecci abbiamo controllato e anche qui niente delfini. Mentre stavamo controllando questa cocia, questo strascico di fondo abbiamo visto i delfini. adesso inizieremo con la foto identificazione e seguiremo il gruppo per cercare di capire come si comporta al seguito di questo peschereccio. stiamo seguendo i delfini, è un gruppo grande e quindi bene. inizieremo e queste sono le condizioni ottimali per fare foto identificazione cioè peschereccio e delfini sulla scia del peschereccio perché? perché i delfini mantengono una velocità e una direzionalità costante e quindi dovrebbe essere più facile riuscire a fare delle buone foto della loro pinna dorsale la cosa speciale di questo avvistamento è che ci sono diversi piccoli ma c'è addirittura un neonato che è piccolissimo, sarà così e la cosa strana è che uno pensa che in una situazione così ci possano essere pericoli legati alla presenza della rete eppure le madri preferiscono portarsi dietro questi neonati così che gli possano insegnare come ci si comporta e come ci si alimenta nei pressi della rete queste sono informazioni fondamentali per il piccolo che inizia appunto ad apprenderle fin dai pochi giorni di vita abbiamo appena concluso un fantastico avvistamento in questo momento il peschereccio è lontano i delfini continuano a seguirlo adesso hanno iniziato addirittura a saltare sulla scia del peschereccio però noi abbiamo deciso di concludere qui e di ricominciare con la navigazione perché ci sono ancora diversi transetti che ci aspettano grazie a tutti